Le strade sono ben transennate ma c'è ancora poca gente, domenica mattina sono neanche alle otto e mezza, quindi i new yorkesi evidentemente sono ancora tutti a dormire. La settima strada al colpo d'occhio è veramente molto a fiato, questa è la parte più bella del percorso, penso, perché da in fondo ci aspetta Times Square e passiamo in mezzo proprio ai classici grattacieli new yorkesi. Andiamo dietro di me, ok, ce n'è, ce n'è ancora. Stiamo passando davanti alla Carnegie Hall, la famosa sala per concerti, con la sua torre, e ovviamente le torri di 40 e 50 piani sono una cosa assolutamente normale. Grazie. 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 Grazie.